Ancora Cronaca cercava di raccogliere fondi per costruire un poliambulatorio a Fano presentandosi ai potenziali investitori come direttore della struttura pubblicizzata come un centro sanitario destinato a diventare il più grande della regione Marche. Ma l'uomo, un forrivese di 56 anni con numerosi precedenti penali, è stato denunciato dalla polizia. L'aveva presentato come un centro sanitario destinato a diventare il più importante della regione Marche, aveva già avviato la campagna pubblicitaria in alcuni quotidiani e radio locali e si era già attivato per reperire i fondi per finanziarne la costruzione. Quello che ometteva però era la condanna che grava sulla sua persona che di fatto gli vieta di avviare qualsiasi tipo di impresa commerciale. ER, forrivese di 56 anni, era pronto ad aprire il centro medico sanpaterniano nella zona industriale di Fano. Intestandola ad una cittadina romena, l'imprenditore credeva di farla franca e di riuscire ad operare nonostante fosse sottoposto alla pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale ed anche dell'incapacità ad esercitare gli uffici direttivi presso qualsiasi impresa dal decorso mese di ottobre. Il tutto perché gravato da condanne, tra cui il reato di bancarotta fraudolenta. Gli investigatori della squadra mobile della questura di Pesero Urbino lo hanno denunciato in stato di libertà, in quanto aveva avviato e promosso a Fano un'attività imprenditoriale nel ramo sanitario, agendo di fatto come imprenditore occulto. Nello specifico, presentandosi ai potenziali investigatori interessati al progetto come direttore di un costituendo poliambulatorio, si adoperava in prima persona per la raccolta di fondi volti a finanziarne la costruzione. Agli investigatori non sono però passate inosservate le pubblicità sui giornali e sulle radio locali. A seguito della denuncia, per l'uomo è scattata anche da parte del questore di Pesero Urbino, la misura del rimpatrio con foglio di via obbligatorio e il divieto di ritorno nel comune di Fano per la durata di tre anni.